Sarà un'altra lunga estate di cantieri. Al via il piano di manutenzione straordinaria delle strade per l'estate. Il Comune investirà 2 milioni di euro tramite la propria società di scopo Parma Infrastrutture. Diversi gli interventi in programma spalmati un po' su tutti i quartieri della città con l'obiettivo di garantire sicurezza e decoro urbano. Il cantiere di maggiore impatto da un punto di vista viabilistico e il più imminente è rappresentato dalla riqualificazione di Borgo delle Colonne dove peraltro la presenza del lungo porticato che lo costeggia renderà possibile il transito pedonale durante tutto il tempo dei lavori. La strada necessita di interventi vari a partire dal fatto che IREN dovrà rifare i cosiddetti sottoservizi cioè le reti di acqua e gas. Da qui la necessità di prevedere un tempo dei lavori articolato su tre mesi a partire dall'inizio della prossima settimana. Il primo tratto di Borgo delle Colonne ad essere interessato dai lavori è quello che vada a piazzare salvo d'acquisto a Borgo della Pace dove sarà demolita la pavimentazione e avverrà la posa delle nuove condotte di acqua e gas. Dalla fine di giugno agli inizi di luglio interverranno le aziende che operano per il comune con il rifacimento del fondo stradale in cubetti di Porfido che avrà bisogno di circa una settimana per assestarsi ed essere poi aperto al transito. La seconda tranche dei lavori da parte di IREN prenderà avvio nella prima settimana di giugno per un mese prevedendo le stesse opere eseguite nel primo tratto. Toccherà poi alle società incaricate dal comune completare il fondo stradale del secondo tratto della via. Al momento della chiusura di Borgo delle Colonne verranno fornite tutte le indicazioni sulla viabilità alternativa. La prossima settimana infine verrà reso noto l'elenco dettagliato degli interventi di manutenzione straordinaria previsti per l'estate e con i relativi costi.